LISCIO.1 LISCIO.1 Al terzo posto c'è Con la versione di Omar Codazzi la canzone Una Catena Al secondo posto c'è L'orchestra italiana Bagutti con Amore Amore Primo posto per Afrodite di Rossella Ferrari e Casanova Andiamo a scoprire l'artista della settimana di LISCIO.1 Presentato da Media TV L'artista di questa settimana più attivo nei social è L'orchestra Buone Note Vuoi rivedere la classifica? Vai su www.liscio.1 O segui le tv e le radio Facenti parte del network LISCIO.1 Ci diamo appuntamento alla prossima puntata Per scoprire il ballo di gruppo del mese di LISCIO.1 Rimanete con noi Vi aspettiamo Ciao